Il minimo che possiamo fare è ringraziare la Guardia di Finanza per aver scelto la Croce Rossa di Mazzara per fare questa grossa donazione. Un ringraziamento va anche al Comando Provinciale, nel colonnello, che ha permesso tutto questo. La merce è stata sequestrata nell'ambito di una grossa operazione che è stata fatta nei mesi scorsi della Guardia di Finanza di Mazzara del Vallo. Sono circa mille capi di abbigliamento tra scarpe, giubbotti, maioni, borse, quindi sono circa mille. Da oggi la Croce Rossa inizia a fare un lavoro molto delicato per individuare le famiglie e tutte quelle persone che hanno bisogno. Quindi tutta questa merce verrà donata in un periodo che va da adesso fino a dicembre.